Caos lungo l'autostrada a 4 Padova-Venezia giovedì mattina a causa di un incidente stradale. È successo al chilometro 368 in direzione Venezia. Tre le persone rimaste ferite. La fila di veicoli ha raggiunto i 5 chilometri, sul posto Suem Polstrada, ausiliari, ma anche i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed è estratto il conducente di una Kia Picanto, rimasto bloccato nell'auto. L'uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale a Dolo. Medicati sul posto due dei tre occupanti dell'Audi feriti in maniera lieve. Dopo i rilievi la situazione è tornata lentamente alla normalità. L'incidente è avvenuto verso le 8.